Grazie a tutti. Nel terzo mistero ci contempla come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo Salamento per perpetuare il suo sacrificio sugli altari per noi fino alla fine del mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, spenga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come cielo così in terra. Non trovate quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in sensazione, ma liberaci dal male. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.